Ciao a tutti ragazzi sono il piccolo ruby e questa è la mia recensione di Hunger Games parte seconda della terza parte, il canto della rivolta questo video può contenere spoiler, quindi se non avete letto i libri e non avete visto il film o non avete visto il film però avete letto i libri, vabbè comunque io vi ho avvisato, contiene spoiler allora, partiamo dalle cose che mi sono piaciute del film in primis mi è piaciuto il fatto che il film ha un trono ha un tono molto più veloce rispetto al primo mentre il primo era molto più focalizzato sui discorsi, sulle strategie di qua e di là il distretto 13, la propaganda eccetera eccetera il secondo è tutta azione, quindi dall'inizio alla fine vediamo tutta azione e questo mi è veramente piaciuto mi sono piaciuti veramente gli effetti speciali in particolar modo mi è piaciuto l'effetto speciale del petrolio quello lì dove buy non da tutto, dove loro stanno intendo a Capitol City mi è veramente piaciuto mi è piaciuta come hanno costruito il personaggio della coin perché penso che è un personaggio molto ambiguo mentre Snow aveva, si è chiaro, abbiamo chiaro dall'inizio del libro chi è lui e che cosa vuole fare, della coin insomma ci sono dei lati oscuri e penso che il film li ha resi veramente bene perché per tutto sia nel primo che nel secondo film ce la fanno apparire come la salvatrice invece questo non è e questa resa secondo me è stata veramente fatta bene perché quando si vede il terzo film quando si vede il terzo libro non si ha mai il dubbio che la coin possa nascondere qualcosa ed è questo è veramente molto bello poi non ho capito perché lei poi alla fine quando si riuniscono tutti si fa i capelli a caschetto quello vabbè non l'ho capito poi vabbè il personaggio di Effie che dà un po' di pepe al tutto nel terzo film l'avevamo, cioè nella prima parte l'avevamo vista in versione di Stetto XIII profuga abbandonata con sto turbante adesso poi ritorna a essere la Effie che tutti amiamo i suoi bellissimi outfit che poi io non capisco dove gli abbia presi queste cose boh non lo so poi per quanto riguarda i personaggi mi è piaciuto molto la resa di Pita che vabbè Pita è un fico quindi non c'è sempre bisogno di niente Gale Gale invece è un personaggio che a me sta sulle palle perché lui è veramente il burattino della coin se la coin gli dice di fare così lui fa così se la coin gli dice di fare cosa lui fa cosa cioè lui non ha una coscienza cioè lui e Katniss sono proprio i due lati della cioè sono proprio i poli opposti della rivoluzione mentre la Katniss è quella che comunque si sta alle regole ma poi ragiona di testa sua infatti lei poi andrà a Capital City senza che la coin lo sappia di sua spontanea volontà Gale è invece quello che rimane fedele al tutto è disposto a scendere a compromessi è disposto anche ad uccidere degli innocenti quindi non ha paura di sporcarsi le mani e insomma è il classico soldato che comunque rispetta gli ordini poi vabbè il personaggio di Finn Nicodera anche lui è veramente figo un'altra parte che mi è piaciuta proprio di tutto il film è stato il matrimonio che è stato veramente eccezionale questo matrimonio soprattutto l'abbraccio tra Katniss e Prynne che sta per precludere un qualcosa ed è stato veramente molto veramente molto eccezionale e mi è piaciuto anche il Snow il presidente Snow interpretato da un attore che adesso non mi ricordo che aveva fatto anche parecchi film anche se secondo me non in persona bene il cattivo perché secondo me io avrei fatto uno con una faccia da cattivo no? perché io io dal libro me lo sarei immaginato con una faccia da tipo da delinquente e lui c'è una faccia da buona ecco lui aveva fatto il padre di di Elizabeth Bennet in Orgoglio e Pregiudizio quindi c'è passata il padre di Elizabeth Bennet ha passata da John Snow cioè voglio dire però ha anche un suo fascino ecco devo dire la verità e Snow è anche un altro personaggio che sorprende come la coin che poi vedremo dopo poi altre cose che mi sono piaciute è la scena degli iberdi quando loro sono sotto le fogne di Capitol City a un certo punto arrivano stibri che sono veramente una cosa oscena mi ha ricordato molto quello lì il nemico del Omama di Spider-Man quello lì che aveva la bocca così là che stava un verme di che si è passata veramente mi sono venuti i brividi e poi mi è piaciuta molto l'interpretazione della Natalie Dormel o Dormer quella che ha fatto che aveva fatto i Tudor e poi la Marjorie Tirell e poi rivedremo la Brienne di Tarte l'attrice non so come si chiama ma la vediamo fare la tipo tipo la capa ed è stato veramente eccezionale cose che non mi sono piaciute del film allora del film non mi sono piaciute che si è fatto vedere solo un aspetto di Katniss allora la Katniss del libro è sì piena di risentimento di vendetta e non vede l'ora di uccidere Snow però mantiene il suo lato umano quindi non si annichilisce completamente cioè la rivoluzione non la contamina fino in fondo perché si vede che comunque ha degli sprazzi di soprattutto nei confronti di Peter che vuole comunque avvicinarsi a lui vuole vuole fargli capire che lei non è la nemica eccetera invece la Katniss del film è solamente presa dalla rabbia vuole solamente la vendetta e non vede in faccia a nessuno e questo aspetto sinceramente mi ha fatto storcere un po' il naso perché comunque la Katniss dei libri riesce a mantenere il lato umano invece quella del film questo lato umano sembra abbandonarlo però mi è piaciuta perché a metà film si vede che lei è esausta che lei è esasperata di questa cosa e che vuole che tutto finisca un'altra parte che non mi è piaciuta la parte clou è stata la morte di Prynne la morte di Prynne sinceramente non mi è piaciuta quella morte aveva un senso mentre quella di Finnick sinceramente un senso non ce l'ha perché uccidere un fico perché tu devi uccidere una persona fica così non uccidelo già aveva ucciso Kato che anche lui è un pezzo di figliolo nel primo film vabbè ma lì la Katniss doveva salvare quindi doveva schiattare ma porca trota ma perché me lo devi uccidere ma per quale motivo non si sa vabbè comunque la morte di Prynne sinceramente avrò voluto vedere qualcosa di più avrò voluto vedere più Prynne invece no sembra che la scena madre di tutto il film che poi avrà delle ripercussioni anche su quello viene fatta così cioè arrivano ste bombe le bombe vengono sganciate Prynne che Prynne a un certo punto muore lei ha il rinculo e torna indietro sviene e basta cioè avrei voluto vedere molto più Patros avrei voluto vedere molte più cose perché è stata veramente una scena madre la scena madre di tutto il film e sinceramente questo non ho visto e non ho visto neanche dopo la sofferenza di Katniss perché come ho detto prima lei si annichilisce come persona e quando poi viene a va nel palazzo presidenziale lei non ha un cedimento lei non piange lei non fa niente lei non si arrabbia cioè io l'avrei voluto vedere più incazzata dire porca misera con tutta la fatica che ho fatto per salvare mia sorella per salvare il mio mondo per salvare la mia famiglia e poi me la uccidono per quale motivo io questa non l'ho visto ho visto proprio una macchina rispetto alla Katniss del film del libro e poi c'è la scena madre altra scena madre la Coyne il personaggio che finalmente si rivela per quello che è ovvero una rivista una che una volta che prende il potere prende il potere e ciao a tutti e penso che la Collins abbia dato un grande insegnamento con Hunger Games ha voluto dire che che alla fine chi prende il potere fa solamente i suoi interessi e tende non sempre comunque tende a fare gli stessi errori che sono stati fatti in passato infatti la Coyne adesso vuole riproporre gli Hunger Games come si è giustificata? si è giustificata dicendo che ormai la gente ha sete di sangue quindi è giusto fare questi Hunger Games diamo quello che la cosa vuole che la folla vuole anche se è simbolica cioè voi capite che questo è un controsenso cioè tu fino a ieri mi hai detto che il distretto 13 è stato bombardato mi qua di là che stai aspettando il momento che ristufa di vedere i distretti nemici tra di loro eccetera eccetera ricordato questa unità e poi vai a ricadere negli stessi errori di Snow allora quindi vuol dire che tu sei peggio di Snow o che comunque tu e Snow siete fatti della stessa pasta solo che mentre Snow l'ha sempre detto chiaro e tondo lei è stata anche falsa perché ha voluto mascherare e ovattare il tutto e questa scena è veramente molto bella perché si capisce proprio come il potere vada via la testa e fa anche comprendere che alla fine le rivoluzioni non avvengono così puff tanto per che comunque dietro ci deve essere comunque una regia deve essere orchestrata da qualcuno ci deve essere qualcuno che spinge le masse a fare questa determinata cosa e questo fatto comunque mi ha ricordato molto Orwell la fattoria degli animali anche lì c'è questo capo che con i suoi insegnamenti fa ribellare gli animali gli animali poi prendono il potere però poi alla fine tendono a fare gli stessi errori che aveva fatto l'uomo che aveva fatto il fattore ed è qui ed è esattamente la stessa cosa meno male che tutto finisce perché la cara Katniss al posto di De Uccide e il caro Snow Uccide la Uccide la coin il caro Snow poi quando viene viene catturato viene che poi non capisco perché l'hanno messo in staserra cioè mi dovete spiegare la serra cioè lui è un prigioniero e tu dove lo metti in una serra piena di rose e modi candy candy ma cosa vuol dire mettilo in una cella mentre da qualche parte no praticamente lui passeggia tranquillamente in questa serra che poi voglio di staserra con il pieno pieno di vetri questo qua poteva prendere sbattere contro il vetro rompere il vetro e scappa cioè boh non lo so comunque il dialogo mi è piaciuto perché è un dialogo rivelatore perché lui dice io non ho mai manifestato il fatto che io volessi determinate cose che io fossi un tiranno che io comunque facessi queste cose per il bene di Panem mentre guarda che la coin insomma te lo può mettere in quel posto detto elegantemente infatti la coin ha paura di Katniss perché una volta che lei può raggiungere il potere lei potrebbe essere un ostacolo a questo e questo mi ricorda molto la rivoluzione francese Robespierre Robespierre che incita le masse alla rivoluzione contro il regime e poi quando lui prende il potere fa di peggio che di quello che hanno fatto prima i governanti ed è quella è stata veramente una bella scena anche se secondo me la coin muore in una maniera molto becera perché lei praticamente tira la freccia lei muore e cade così cade come una pera cotta cioè vabbè ho capito mettici un po' di un po' de coso un po' un po' di tutto e un'altra scena che veramente mi è piaciuta veramente tanto è quando Katniss torna nella villa dove ci sono i vincitori vede Pita che sta mettendo sta piantando dei sta piantando degli alberi sta piantando adesso non so se hanno delle primule dei fiori come a simboleggiare la rinascita cioè lui mette quei fiori dove prima c'è stata erarido dove prima c'è stata desolazione quindi dove c'è stata la guerra mette questi fiori come proprio simbolo di rinascita rinascita culturale rinascita anche di se stessi ed è stata veramente una scena veramente epica e bellissima poi io sul finale con vede lei coppita vabbè gli hanno fatto un po' una 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 pettinatura orrenda secondo me però vedere lei e lui finalmente formare questa formare questa famiglia è stato veramente veramente eccezionale è stato veramente un bel film io pianto dopo la morte di Finnick poverino perché non si può uccidere un fico non si può uccidere un fico e poi io pianto sul finale che è stato veramente struggente adesso non so se riusciranno riuscirà più avanti una saga così coinvolgente così bella mi sa di no perché visto i precedenti mi sa di no anche per i prodotti che vedo in giro mi sa di no comunque è stato veramente eccezionale fatemi sapere se avete visto il film se vi è piaciuto se non vi è piaciuto le parti più belle le parti meno belle e quant'altro io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao